ha perso un'occasione ieri sera la real sociedad ad una grande occasione perché se avesse battuto in casa nell'anticipo di questa tredicesima giornata di liga il fanalino di coda leganesca aveva fatto solo 5 punti nelle prime 12 partite di campionato avrebbe spiccato il volo sarebbe stata la capolista in solitaria con tre punti di vantaggio su barcellona e real madrid e invece la real sociedad ha fatto uno a uno si è fatta riprendere da un gran colpo di testa di ennesiri e dalla sagaccia tattica del vasco aghirre che ha rivitalizzato i pepineros però visto che comunque con questo punto la real sociedad è prima in classifica da sola quantomeno ancora per qualche ora e visto che non succedeva da 17 anni a un club storico espressione di una città meravigliosamente turistica ma anche molto futbolera con tradizione tradizione di qualità nel calcio allora mi sento di condividere con voi i miei pensieri su questo bel progetto tecnico stilato da un club che ha fatto un ragionamento molto molto interessante e anche molto produttivo sui giovani e che ha affidato tutto questo a un allenatore molto particolare imanol alguasil un allenatore che si è sviluppato nel settore giovanile che era già stato in carica un paio di stagioni fa quando aveva salvato la squadra nel finale raddrizzando un'annata veramente storta poi c'era stato un altro progetto con garitano progetto non funzionale perché si giocava un calcio diverso rispetto alla rosa che si aveva in mano e anche proprio alla storia di questo club allora quasi a furor di popolo imanol alguasil è stato richiamato nel girone di andata della scorsa stagione e da quando si è impiantato ha tenuto una media di 1,6 punti conquistati a partita portando la real società dai bassi fondi della classifica fino a sfiorare la qualificazione all'europa e adesso addirittura ad essere una squadra credibile lì in alto non tanto perché la real società possa davvero vincere la liga o niente è scritto può anche succedere però rimane una prospettiva piuttosto lontana dalla razionalità mentre io credo che questo club questa squadra questa realtà abbia veramente delle chance di poter lottare per il quarto posto di potersi iscrivere a quella che sarà una meravigliosa volata per la piazza champions questo perché appunto la real società è un club che ha puntato sui giovani e ha puntato su un gioco di qualità imanol alguasil è un tipo strano è uno che ha detto che messi non ci starebbe nella sua squadra perché sarebbe difficile da incastrare in un disegno tattico è uno che a volte anche parlato male dei sui giocatori è uno che va dritto che ha delle idee e vuole vedere quelle anche se la sua real società è sia una squadra con dei dogmi piuttosto stabilizzati e piuttosto visibili ma anche una squadra che si sa adattare bene non tanto all'avversario non tanto alle necessità della partita quanto alle qualità che mette in mostra di volta in volta è una squadra che tatticamente si basa su un sistema di gioco che varia dal 4 3 3 al 4 2 3 1 è una squadra che magari può essere un filino morbida dietro dietro c'è qualche cosa di migliorabile come portiere è arrivato alex remiro un ragazzo di prospettiva di 24 anni che però ha iniziato come riserva inizialmente giocava il più esperto moya perché comunque è un portiere giovane senza esperienza in primera divisione e reduce da un anno di inattività perché dopo la rottura dei negoziati per il rinnovo del contratto con l'athletic bilbao è stato punito con un anno fuori rosa ed è andato a parametro zero ai grandi rivali della real società dunque aveva bisogno di rimettersi un po il ritmo e di non sentire tanta pressione adesso ha preso la titolarità ha sbagliato qualcosina ma io credo che remiro sia un portiere di prospettiva ci sono pochi centrali nella rosa i due titolari sono le norman un giovane francese sviluppatosi nel vivaio che si sta facendo in prima squadra con buoni riscontri e iorente che sarebbe anche un nazionale spagnolo ma è portato a giocare come centrale di sinistra e non come centrale di destra ed essendo destro di piede ed essendo la real società una squadra che costruisce molto da dietro a volte ha qualche difficoltà i terzini sono saldua un mestierante e nacio monreal un vecchio veterano riportato in spagna dall'arsenal dietro non c'è una solidità estrema infatti la real società ha subito 14 gol in 13 partiti di campionato tutti tranne uno su azione ha subito un gol su pallina attiva una punizione di vadiglio nell'ultima partita del granada bucata dal portiere però il fatto che praticamente tutti i gol arrivino su azione arrivino su giocata testimonia come dietro non ci sia totale stabilità per quanto riguarda invece centrocampo e attacco la real società è una squadra veramente bella è una squadra che ha alternative è una squadra che ha valori l'unico centrocampista di stampo difensivo è un canterano igor subeldia un giocatore che così come il suo partner in mezzo al campo michel merino ha vinto l'europeo under 21 quest'estate con la spagna si è anche riciclato come centrale di difesa è un giocatore di posizione è un giocatore fisico è un giocatore essenziale è un giocatore che regge bene quella che invece è un'impalcatura di grande propositività che si poggia fondamentalmente su tre figure principali e anche in questo caso sono tutti ragazzi molto giovani perché il più vecchio ha 23 anni il più vecchio è michel merino ve lo ricordate il talento che emerse nell'osasuna si parlava benissimo di lui quando era molto molto giovane tant'è che ha avuto l'opportunità di andare a giocare prima al borussia dortmund e poi al newcastle in una big di germania e in un grosso club inglese fra borussia dortmund e newcastle però michel merino non è fiorito lui era un trequartista fondamentalmente addirittura magari un esterno d'attacco perché è un giocatore che lavora molto bene con il mancino è stato provato in più posizioni differenti non ha mai trovato il suo habitat ideale tornato in spagna e preso la real sociedad l'habitat ideale glielo ha costruito imanol al guasil che lo ha piazzato a fare il centrocampista centrale puro trovando veramente il top dell'espressione di questo ragazzo che adesso a mio modo di vedere è uno dei centrocampisti più gustosi e impattanti dell'intero campionato perché perché a gol infatti ne ha già segnati due uno proprio ieri sera tra l'altro di testa andate a vedervelo fa un movimento davvero killer dell'area di rigore riesce a battere la marcatura del diretto avversario riesce poi a dare una frustata aerea veramente dal giocatore forte forte muscolarmente non solo tecnicamente è un giocatore che ha visione per cui quando lui inizia l'azione dà sempre dei palloni di qualità da lavorare alle mezze punte o alle attaccanti è un giocatore che inserimento è anche un eccellente recuperatore di palloni perché pur non avendo un background difensivo è talmente intelligente tatticamente nei posizionamenti che si trova sempre nel posto giusto al momento giusto per cui è un centrocampista meravigliosamente completo il numero 8 della real sociedad l'altro centrocampista giocatore fondamentale che è mancato nelle ultime due partite perché proprio per la sua grande esplosione adesso è fin troppo attenzionato tradotto in parole povere menato dai rivali è il norvegese odegord il gioiellino ancora di proprietà del real madrid che lo prese da bimbo finì sotto troppe attenzioni e allora ci ha messo fusiologicamente un po' a maturare gli ha fatto molto bene il prestito in olanda perché adesso odegord è un giocatore pronto all'esplosione anzi l'esplosione è già avvenuta al di là di questa caviglia ammaccata che gli negherà la presenza nella nazionale norvegese odegord è un protagonista assoluto di questa stagione tra l'altro a proposito di nazionale norvegese con lui e con holland credo che la norvegia nel prossimo diecennio sarà una squadra che si farà guardare molto volentieri e si farà anche notare odegord è un altro che non solo è riuscito a cominciare a tradurre con continuità il suo grande livello tecnico ma è cresciuto molto a livello di massa a livello di intelligenza tattica anche lui recupera tantissimi palloni ma è proprio il modo in cui cura il proprio corpo ed è focalizzato sull'obiettivo di diventare un giocatore importante del real madrid a far pensare tra virgolette a una sorta di piccolo cristiano ronaldo proprio per la maniacalità con cui svolge la propria professione lui ha voluto quest'anno di presto alla real sociedad rinunciando anche offerte da squadre che giocavano in europa giocavano la champions league proprio perché voleva rimanere in spagna voleva rimanere vicino al real madrid lui vuole diventare un giocatore del real madrid e credo che visto quello che ha fatto in questa via di stagione abbia tutte le carte in regola per poterlo fare perché è un giocatore che spacca la partita fra le linee sia portando palla che giocandola con gli altri finalizza crea recupera come detto palla fantastico vedere agire in combinata questi due mezze ali merino e odegord due giocatori estremamente completi ed estremamente produttivi il terzo elemento che fa la differenza è michelo yarzabal che ha 22 anni è già un nazionale spagnolo stabile nazionale maggiore non nazionale under 21 con l'under 21 ha vinto anche lui l'europeo quest'estate ma adesso è un fisso nelle convocazioni di robert moreno è uno che segna è uno che fa assist è uno che è profondamente basco non solo per il cognome ma anche per le attitudini perché questo è un ragazzino di eibar che già dopo aver debuttato in prima squadra viveva ancora con la famiglia si muoveva col treno è uno molto sobrio molto serio porta la fascia di capitano a 22 anni ha già segnato più di 40 gol in liga è un giocatore veramente di alto livello nonostante porti il 47 di piede si dice che i grandi fantasisti i grandi giocatori d'attacco abbiano il piede piuttosto contenuto lui è forse l'eccezione che conferma la regola o yarzabal parte solitamente dall'esterno sinistro d'attacco ma poi va a congiungersi con il centro avanti va a lavorare appunto con le mezze ali giocatore totale a dribbling a conclusione a passaggio veramente un gran bel prospetto ma direi già un giocatore consacrato e dall'altra parte sull'altro settore credo che la real società abbia fatto un grande acquisto quest'estate perché c'era yanusai altro talento espresso fino a un certo punto tra l'altro talento un filino in rotta di collisione con i manolo alguacil vi dicevo che un tipo strano allenatore in una conferenza stampa di una decina di giorni fa gli hanno chiesto perché uno come yanusai uno dei giocatori più importanti della squadra non vedesse il campo da un mese la risposta è stata io non credo che yanusai sia una stella gli ha dato la scossa decisiva perché poi lo ha fatto subentrare a granada e yanusai ha fatto assist lo ha fatto giocare da titolare contro le ganes e yanusai ha fatto assist però perché yanusai è finito in secondo piano perché da quella parte è arrivato portu dal girona un esterno con una velocità e una verticalità entusiasmanti gioca punta a destra è un prodotto di macina allenatore che adesso è tornato in liga allenando le spagnole e credo sia uno che abbia delle cose da dire portu ha questo tipo di azione attacca sempre la profondità va via perché è velocissimo e poi ha un grande controllo della sterzata rientra all'interno del campo è uno che fa gol e uno che li fa fare i numeri parlano di quattro reti e quattro assist in questo campionato direi appunto un buon acquisto poi c'è il comparto offensivo dove ci sono fondamentalmente due giocatori che si contendono una maglia ma possono anche giocare insieme uno è il totem storico diciamo degli ultimi anni della real sociedad ovvero william josé attaccante brasiliano ma brasiliano per la morbidezza dei piedi e invece molto basco molto europeo per quello che è il suo impatto fisico william josé ha segnato 50 gol nella real sociedad 17 dei quali di testa per cui se si alza la palla in area di rigore non è una cosa che fa spesso questa squadra ma avendo anche buoni crossatori è portata a farlo a seconda delle contingenze se si alza la palla lui domina prende la porta è un giocatore che magari non ha una totale continuità perché in alcune partite risulta un po grigio risulta un po sparire soprattutto contro avversari che la mettono esclusivamente sul piano fisico e gli compattano molto gli spazi stringendo le linee di difesa centrocampo però è un giocatore sul quale tutti a san sebastian sanno di poter contare così come sta dimostrando di poter essere un'ottima carta da partita in corso alexander isaac che di anni ne ha 20 è uno svedese di origine eritrea è un giocatore che è alto più di un metro e novanta ma che non è una punta classica è un attaccante anche in questo caso molto completo perché è uno che ha la sua miglior caratteristica nel controllo in velocità vedete questo spilongone non pensereste mai a una situazione del genere però quando parte con queste lunghe leve con il pallone sempre attaccato al piede è uno che fa la differenza per questo vi dico che più che un centravanti classico isaac può diventare una straordinaria seconda punta una seconda punta moderna che ha grandi qualità fisiche e meravigliose possibilità tecniche anche lui è uscito molto presto è stato preso presto dal borussia dormund non si è ambientato benissimo in olanda ha trovato un contesto perfetto per la sua fioritura nella seconda parte della scorsa stagione al villem 2 ha segnato tanto e quest'anno alla real sociedad come carta partita in corso perché è partito titolare solo due volte è uno che sta rendendo poi se parliamo dei talenti di questo club c'è da citare anche il diciottenne bar necea ragazzo che ha già segnato al real madrid che adesso deve un po sgomitare per avere spazio infatti ne ha poco ma ha 18 anni ha un grande futuro davanti per questo volevo parlarvi della real sociedad perché probabilmente oggi con il barcellona che gioca in casa col celta vigo il madrid che gioca ad eibar verrà superata però questa non è una sorpresa totale non è un fuoco d'artificio che si spegnerà presto questo è un club che ha fatto un progetto che ha fatto un progetto coraggioso che ha fatto un progetto improntato sulla qualità e in spagna nel giardino dei più grandi campioni dei più grandi giocatori tecnici che ci siano in giro quando punti sulla qualità di solito fai dei risultati per cui seguitela la real sociedad in questa liga primo perché ripeto la corsa per il quarto posto sarà estremamente entusiasmante secondo perché è molto difficile che giochi la real sociedad e non ci sia una bella partita